Siamo con Janine Fox. Ciao Janine, complimenti perché sei veramente bellissima. Siamo qua al Virgin che è un circuito fitness. Io so che tu hai una storia familiare di sportivi, vero? Ci vuoi parlare della tua mamma, di tuo fratello? Ah, hai saputo tutto? Mi hai letto su Wikipedia, naturalmente. Raccontami un po', tu sei nata in una famiglia che ha avuto questo valore alto dello sport, quindi la cultura dello sport. Sì, sì, io vengo dalla famiglia molto sportiva. Mia madre ha fatto 1964 Olimpiadi per Canada in Tokyo e mio fratello ha giocato basket per la canestra con i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics. Lui ha vinto, in realtà, tre anelli. Sarai anelli? Un campione, non so che è un campione. Un campione tre volte. Per me è molto importante avere un fisico, una vita molto sportiva, molto sana. Io vado ogni giorno, gosh, in palestra. Quando ho tempo io vado ogni giorno. Quindi la tua mamma ti ha insegnato che lo sport è salute? Sì, sì, sempre quando ero bambina, anche adesso, io faccio tantissimo sport. Anche io mangio molto bene perché mia madre mi ha insegnato questa cosa. Quindi, per esempio, se facciamo una giornata tipo di Janine Fox, quindi tra sport e alimentazione, tu ti svegli e fai una colazione ricca, immagino? Prima colazione? Sì, sì, sì. Perché io inizio lo sport alle 8.30 fino alle 11.00 e io ritorno a casa e io mangio tre uove. Perché questo è molto americano. Tre uove, due fette biscotti, yogurt, tè e acqua. Due lettere di acqua. Io corro perché in inverno 40 minuti al giorno e nell'estate un'ora. Io mangio cinque volte al giorno. Quello è importante. Io faccio la dieta a zona. La dieta a zona, sì. E quindi tu sei in forma perché fai sport e perché ti tieni e hai una giusta alimentazione. E quindi il consiglio che dai a chi ci sta ascoltando qual è? È molto importante a mangiare, a bere acqua e a fare i pesi. Mi piace fare i pesi e correre. Perché io non gonfio. Ti sgonfia, ti toglie tutto il gonfio. Non, io non gonfio. Quindi è buono di fare i pesi e mangiare e correre. È importante fare tutto per me. Ciao a tutti. Io sono Janine Fox e voglio salutare tutti. Salutare tutti. Ciao. Ciao. Ciao.